La prima cosa che devi sfidare, i tuoi fan a capire chi dei due ha i capelli messi peggio Ti sei volutamente così e stai bene, io non sono volutamente così Ma guarda, in realtà è paglia in questo momento i miei capelli Comunque non credevo che sarebbe mai avvenuto questo video, diciamo Neanche io, però va bene C'è stato questo crossover, quindi ecco qui Lorenzo Grazie, allora oggi, siccome tutti mi conoscono perché so fare dei bei disegni Oggi insegniamo a Riccardo un po' di te Gli fai vedere quello che ho fatto È vero, aspetta, guardate ragazzi Mentre settava Riccardo il set, io ho fatto questo Quando ho visto il disegno di Lorenzo ho detto Ma tu hai una dote, hai davvero del talento Vieni sul mio canale a insegnarmi a disegnare A smettere informazioni con poche linee Guarda che questo è un piccione senza un alaco Questo qua è l'inizio di un movimento artistico Esatto ragazzi, iniziamolo adesso Va bene, quindi spiace Brutto anno per la storia dell'arte contemporanea Quindi comunque, perché siamo qui, io e Lorenzo Allora, vuoi chiamare Lorenzo o vuoi dire? Lorenzo Ma chiami come ti pare E l'illustrissimo Io e l'illustrissimo siamo qui per fare una cosa molto bella Cioè lui andrà a realizzare un disegno Proprio attraverso la sua arte Le sue straordinarie capacità E poi io andrò a reinterpretarlo Per cercare di fare una versione Che possa essere anche solo lontanamente altrettanto bella Tu stai andando per scontato che il mio faccia schifo No, no, no Il mio canale è ben monetizzato Questo disegno che farò sarà la demonetizzazione Va bene Ma non perché è volgare Proprio perché è talmente brutto Che non ci vogliono gli annunci No, 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 non mi piace questa cosa Ragazzi Il video è cancellato qui, allora Allora, ma andiamo a prendere un'applicazione come si deve Mi studi Spoiler, spoiler Intanto partiamo dagli strumenti Certo Un buon artista, come tu sei Certo Vuole i propri strumenti Quindi cosa vuoi? Vuoi una matita? Vuoi una penna? Vuoi una birra? Non c'è una birra? Non c'è niente Ho sbagliato set, ragazzi Mi dispiace Mettiamoci lo smooth blend pencil Smooth blend pencil Oggi la vera sfida per Lorenzo sarà andare a scrutare nella propria mente, nella propria fantasia Non c'è niente, non c'è niente, ho già fatto Scruta nei tuoi capelli per cercare questa fantasia e realizzare un disegno originale Allora, allora, allora Io c'è solo un disegno in particolare che mi sono sempre schillato per farlo bene, nel senso fa sempre schifo Però ho masterato lo schifo di quel disegno lì Ok Devo avere paura? Molta perché è il primo disegno che tutti fanno Ok Quindi immagino che tu sappia qual è Allora C'è Questo È una casa? Ok, questa è una casa Già che hai capito che cos'è, sono contento A me lo è la porta perché i dettagli sono importanti Ecco, dagli un po' di corpo Alla casa gli diamo un po' di corpo? Sì, sì, sì No, nel senso che ho in spessito il tratto Ah, io il corpo a te devo casa 3D Va bene? Ok, ora è 3D Ora è 3D, grazie Dopodiché c'è un bell'albero qua Con il buco per gli scoiattoli Vabbè, ma questo qua è il disegno più standard che possa esistere Se l'ho detto, io l'ho masterato Sì, ma io pensavo Io pensavo fosse comunque qualcosa di particolare Ti faccio sempre questo Guarda, ti faccio vedere la mia versione com'era Allora, quando ero piccolo, anch'io facevo questa cosa qui Però c'erano varie differenze Tipo, allora, partivo con l'erba Ecco, che già ha un senso Facevo la casa, però non era in 3D Quindi anch'io facevo così Ah, quindi sono partito meglio io, forse Però, aveva l'albero qui Era così Anche qui io facevo così Hai visto? Facevo me E io avevo sempre un ciuffo che era così Come vanda di Cosme vanda Esatto Scusa, ma quel ciuffo come facevi a tenerlo? Impossibile Ho inventato il gel Non c'era ancora Non c'era ancora, esatto Ma la cosa che veramente era proprio il top È che facevo il sole Con gli occhiali da sole Ah, no No Beh, ma tu sei fantastico Tra l'altro hai fatto esattamente i miei occhiali Quelli che ho portato È vero Bellissimo Non era così il video che avevo inventato Oh, ma hai detto disegna quello che vuoi Sì, va bene Siamo scaldati Sì, infatti Questo qua è stato i preliminari Allora, io adesso ti faccio vedere una roba Vai Io non riesco a rappresentare quello che nella mia testa ho Quindi io penso a una roba Dico, ok La faccio Aspetta E non è come quello che ho in testa Allora, io ho un problema Vai Con gli animali Allora, innanzitutto partiamo dalla testa Perché non saprei da dove partire Ok, penso che tu abbia già indovinato che tipo di animale è E a parte gli animali Sei che sembra che voglia morire da un momento all'altro Ma il problema sono le zampe Non riesco mai a farle tutte Io non credo che il problema siano le zampe Guarda, se riesci già a indicarmi quali sono le zampe Ma questo qua cos'è? È un becco? No, spero, ho fatto uno in più Vabbè, è un elefante a sei zampe È un elefante Cinque zampe Ha cinque zampe Non esiste questa zampa qua Non l'avete visto niente voi ragazzi Un elefante Con un deretano un po' storto Però è un elefante Quindi io non saprei come farlo meglio Allora, facciamo una cosa Questo qua è il primo disegno Per dire che sono cose, diciamo, che tutti quanti hanno bene a mente Ecco Ok Quindi, anche se non in questo modo Non assolutamente in questo modo Però, questo qua è il tuo elefante Scrivi elefante Sì, perché se no non si capisce Perché se no poi io lo riguardo e dico Che cavolo dovevo ridisegnare? Elefante Elefante C'è qualcos'altro che vorresti vedere ridisegnato? Beh, qualsiasi cosa Quindi aspetta, mi faccio venire nel mento un attimo una roba Stavo vedendo cosa stai guardando Stavo guardando il mio spirito creativo Va bene Vedi? Si prego, scendi qua e aiutaci Si sta allontanando No, no, no Tu sai fare un autoritratto? Quindi io potrei disegnare anche te Vai Disegna me No, questo qua voglio vederlo Voglio vedere come mi disegni Guardami, guardami Va bene Devo vedere Anzi, guarda lì, fissa loro Sì, però per cortesia Già sarà brutto Oh, sto dicendo che questa faccia non è bella Si normale, si normale Ecco Tanto con le smorfi non le so pro fare Quindi stai tranquillo Ho aggiunto un dettaglio Ma bene Va bene Mi piace Tanto veniva così lo stesso Non ti preoccupare No, aspetta, che è successo? Aiuto Aspetta Mettimi a posto L'hai rotto Ma come l'ho rotto? Vai Ok Stai fermo Sto fermissimo Fermo che qua c'è il dettaglio che è importante Questo video sta degenerando Non era partito in questo modo Stai tranquillo Guarda lì Stai tranquillo Stai tranquillo Guarda che mi sta impegnando un sacco Guarda, tengo gli occhi chiusi Guarda da un'altra parte Ok No, guarda Mi serve che guardi là Che se no non ha un senso Voglio avere l'emozione tutta in un colpo Sarà un'emozione incredibile L'ultima che proverò, credo Allora, quella è la parte divertente Mi sta venendo una paralisi Eh, ma puoi smettere di guardare Ci sei? Ma è bellissimo Grazie, grazie Mi hai sorpreso E avete presente Quegli articoli che si leggono Che ne so, online Dove c'è l'artista Che fa tipo Un ritratto Al giorno Però ogni giorno Si fa di droghe diverse No? Ecco, questa qua è l'ultima Ah, questa è l'ultima droga? Sì, sì Quella che le racchiude tutte Però mi è piaciuto Guarda Firmalo Allora, facciamo l'ultimo disegno È l'ultimo disegno Ma hai presente tu quel quadro Che ci sono gli squarci sulla tele Costa un sacco? Sì Non lo fare Hai pensato di scacciare l'iPad? No, no Non lo facciamo perché altrimenti Apple mi uccide Non si possono dire queste parole Pone fino alla tua lista È un po' come, che ne so Le puntate di Detective Conan Ogni volta qualcuno veniva a uccidere Dicevano sempre È stato eliminato Sto pensando all'ultimo disegno Vai Dammi un secondo E voglio trovare qualcosa di creativo Vai, nel frattempo ragazzi Io vi intrattengo Come state? Tutto bene? Vi sta piacendo il video fino ad ora? Spero di sì Nel caso mettete mi piace Allora, io lo faccio Vai Però poi ti dico che cos'è Poi mi chiedi scusa Sì Dopo averlo fatto L'abbiamo visto prima Non ce l'ho neanche bene in mente questo Prova bene E subito parti con un tratto bello deciso Infatti non lo cancello Troppa decisione Allora, è un bicchiere No Minecraft Che cos'è ragazzi? Aspetta Voi riuscite a capire che cos'è? Sono occhiali Non sono occhiali Non sono occhiali È un robot Non mi ricordo cosa c'è qua Ragazzi, fatemi sapere in tempo reale Con un commento che cosa pensate che sia Ora so che cos'è Hai capito? Ci vuole molta immaginazione È Loredana per te Ma come Loredana per te? Sì Vabbè, hai capito Sì, ho capito Scrivilo però per palesarlo alle persone Bulgo Quindi, piccolo recap Ah no, no Il recap è parte da questo Guarda il sole come vuole morire La differenza di sole che c'è tra il mio e il tuo Il tuo davvero non vede l'ora di diventare un buco nero Quindi un elefante Poi Questo qua è venuto bene No, devo essere sincero Questo qua stretto di mano Ti è venuto proprio bene Grazie, è veramente un amico E poi Siamo qui, è passato un bel po' di tempo È passato un sacco di tempo Tu chi sei? Infatti Non mi ricordo più Non ci ricordiamo neanche che tipo di video È passato un mese ragazzi, incredibile Sì, un casino di tempo Eravamo rimasti che lui aveva fatto dei disegni, no? E quindi io dovevo ridisegnarli Perfetto Solo che ho cambiato un po' le cose Allora, fammi vedere come stiamo messi Io mi ricordo il mio elefante era un bijou Sì Bellissimo Allora Eccolo Allora, il fatto qual è? Che io ho detto dovrei ridisegnarlo Tra virgolette diciamo meglio Però, allora, io ho detto facciamo una cosa Rendiamo le cose veramente difficili Tu hai ridisegnato così, con la zampa in più reale L'ho ridisegnato Cercando di mantenere la stessa forma che gli hai dato tu Vai un casino Quindi sei pronto Vai, suappa Verso sinistra È un momento incredibile ragazzi Voglio vedere cosa hai fatto qui Eccolo qui Bellissimo Io questo non sapevo che cosa fosse Guarda che se ci mettiamo È la cacca Se ci mettiamo insieme Facciamo tipo una roba di Tim Burton Sì, sì, sì Questo qua Ma neanche Tim Burton sarebbe capace di farlo Però bello Mi piace l'espressione sofferente che ha Perché sa di essere brutto Preso direttamente da Dumbo Dumbo è orribile quel film Il prossimo disegno però Va bene Il prossimo disegno è mio Elefante by Richard Cazzoitti Certo perché scriviamo Esatto Sia mai In un disegno ti rovini la reputazione di tutta la vita Allora Eh ma l'hai fatta così Effettivamente però sì Bellissimo Dovrebbe essere Richard Htt Bye Richard Htt Bellissimo Ora si va però nella parte un pochino difficile Perché hai fatto un altro disegno Però non sapevo bene come farlo Ed è questo Perché Oh regà Esatto perché questo qua l'hai disegnato Che già somigliava a Sì Quindi l'hai fatto reale come era Allora io ho cercato di Farlo come se fosse una faccia Ah Vai Ecco Madonna che brutto Quindi questa qua è la maschera se fosse una faccia Ma no ma questo me lo sogno la notte E tu ce l'hai tatuato da qualche parte No però volevo tatuarmelo Ecco questo qua Sì ma assolutamente In faccia Bellissimo Finito Finito No come Ne hai fatti pochissimi Era meglio di una serie tv guardare ste cose E pensa che mi ci sono pure impegnato Madonna Allora se volete vederne altri Scrivetelo qui sotto nei commenti E facciamo uscire la seconda parte Tra un anno Vi prego Sì Anche due Bellissimo Dai io Concluderei con questo bellissimo ritratto Sì Dai Ecco con questa mia faccia Comunque guarda che C'è onesto No 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 ma guarda Questo qua C'è proprio tutta l'espressione Anche se questo qua L'originalità del ritratto Quindi grazie per aver visto questo video Ma soprattutto se avete altre Non so Idee da proporci Cose da sperimentare Per i prossimi video Mandatela a lui Non a me Perché a me no Fatemelo sapere qui sotto nei commenti Iscrivetevi al canale Lorenzo Ci vediamo al prossimo video Va bene Ciao Ciao